ciao a tutti sono filmare sono molto felice di annunciarvi che da quest'autunno anch'io farò parte del corpo di docenti di 100% durante i nostri incontri cercherò di trasmettere tutta la mia esperienza spazieremo dalla tecnica più pura all'attitudine che abbiamo nei confronti della musica mentre suoniamo parleremo di come suonare con naturalezza sopra un click come districarci tra tempi dispari e complessi parleremo dell'arte di accompagnare una canzone parleremo di micro time di pronunce di stili musicali diversi di dinamiche insomma tanta roba non vedo l'ora di iniziare questo percorso con voi insomma vi aspetto a Roma